Cure gratuite per i cittadini paganesi meno ambienti. Le visite specialistiche saranno possibili dopo l'istituzione della giornata della salute. L'esecutivo del sindaco Alberigo Gambino infatti durante la giunta dello scorso 8 agosto ha promosso l'istituzione permanente di una giornata mensile dedicata alle cure gratuite. L'ambulatorio sarà allestito in uno spazio che verrà messo a disposizione dall'Associazione di Protezione Civile Papa Charlie in via Antonio Esposito Ferraioli. Le politiche sociali sono una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Stiamo lavorando in questa direzione fin dal nostro insediamento. Da settembre partiranno le giornate della salute, una settimana al mese dedicata a visite specialistiche alle quali potranno accedere tutti i cittadini di Pagani. Nelle prossime giornate vareremo un avviso pubblico attraverso il quale i medici specialistici cittadini potranno dare la loro disponibilità. Io nel frattempo ringrazio la Protezione Civile Papa Charlie e il presidente Michele Pepe che fin da subito ha messo a disposizione del comune di Pagani una sala della sede di via Filettine per allestire l'ambulatorio. Saranno ambulatori aperti a chi ne ha bisogno anche perché sappiamo che oggi fare una prenotazione presso gli ospedali è diventata quasi un'odissea, le liste d'attesa sono lunghissime e quindi chi vuole potrà accedere a queste visite specialistiche che saranno dermatologiche, nefrologiche, ginecologiche e via dicendo. Insomma tanti specialisti per dare risposte concrete alla collettività in tema di salute.